ora potete uscire la cale e ci vediamo una tolesa di Piro Paggiano tutte le casse di scorte trovate, ottimo lavoro non vai più che non bomba da me dai prendo qua allora faccio la pietra nella tolesa non, 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 non non lo è sta niente quando athere no, è già fantasma uno sotto attacco via gas in arrivo nuova zona sicura si molessa buono foggi minanti carro innescata ma quanti ne erano lancio d'equipaggiamento alleato in arrivo oh ma dai soldato nemico in arrivo mi hanno colpito bucchini mam bucchini mam arrivano da voi attento uno l'ho fatto dentro confermato ne restano 25 stai andando bene avete del gas in arrivo salutate potete restare un altro acqua sei l'ultimo del potente ecco già la costina l'ultimo Proprio dove è morto la costina A sinistra Dai bravo, vi tracciate Ma quando ce ne sta Adesso è andato Guarda questa costina, non a me No Arrivo Ne restano dieci Continua così Guarda questa costina